La sede del gruppo Scout Vicenza di Via Vigolo in Gogna per una settimana è il Quartier Generale dello Scoutismo Nazionale. Da sabato scorso a sabato prossimo una settantina di capi scout provenienti da tutta Italia sono infatti riuniti per confrontarsi su metodi educativi, proposte formative e possibili iniziative per Castorini, Lupetti, Esploratori e Rover. Quest'anno Vicenza proprio per essere più vicini a tutti i gruppi e le associazioni scout del nord e quindi oltretutto anche l'anno prossimo saremo a Padova quindi Vicenza è proprio l'essere vicini a tutti i nostri gruppi del nord d'Italia. Qui abbiamo sentito diversi accenti arrivano da tutta Italia i capi poi lo scoutismo viene vissuto in maniera analoga in tutta Italia o ci sono delle differenze? In maniera analoga ma diversa nel senso che i principi fondamentali, le metodologie, anche parte delle tecniche sono uguali però evidentemente ci saranno dei gruppi nautici che sono più frequenti al sud, ci sono situazioni ambientali per cui certe attività importanti si faranno più in primavera che non in estate. Tizzoni e fazzolettone sono gli oggetti simbolo dei capi scout, se li è già guadagnati anche una giovanissima ragazza sarda, Francesca. Capo severo? No, severo no però posso dire che pretendo molto dai ragazzi perché voglio che loro ottengano le stesse cose che ho ottenuto io dallo scoutismo, che gli aiuti a crescere tanto quanto ha aiutato a crescere a me e quindi insomma che gli dia un buon carattere, che li porti a crescere bene.